Venerdì 23, vi aspettiamo al Biricocco. Manuel ha sostenuto e appoggiato questa bellissima iniziativa di un aperitivo solidale. La finalità è quella di raccogliere fondi per una missione umanitaria, Sorrisi Infiniti Burundi, che grazie alla Onlus Urukundo ci farà partire, andremo in Burundi per ben due mesi dal 10 di novembre. Cosa andiamo a fare per ben due mesi dal 10 di novembre in Burundi? Andiamo ad insegnare la clownterapia ai burundesi. Sì, perché andare semplicemente a farla era troppo facile. No, questa volta andiamo lì e insegniamo a loro, a tre gruppi di laici, novizi e suore, la clownterapia, così che dopo loro la possano operare, la possano mettere veramente sul territorio. Quindi venerdì vi aspettiamo alle 5 e mezza al Biricocco, grazie a Manuel Torri, e ci sarà un aperitivo solidale. Alle 6 facciamo la presentazione del progetto, con noi ci saranno anche dei preti burundesi, Don Giancarlo, che appunto rappresenta Urukundo, e vi parleremo un pochino di cosa faremo effettivamente lì. Per le 19 pensiamo di terminare il tutto. Speriamo che voi possiate venire numerosissimi, perché ogni piccolo aiuto per noi è fondamentale. Ah, dimenticavo, dimenticavo! Offerta libera, voi venite. Poi qualche cosa Manuel ci farà sicuramente stuzzicare, visto che è un aperitivo, e la vostra offerta, il vostro cuore per noi sarà sicuramente molto importante.